Intravenire il più tempestivamente possibile quando si verifica un episodio grave come l'arresto cardiaco improvviso che rappresenta una causa di morte molto frequente. Solo con manovre salva vita e la defibrillazione precoce aumenta infatti la possibilità di sopravvivenza fino al 50-70% dei casi. E sensibilizzare ma soprattutto istruire tutti gli automobilisti fornendo loro informazioni e strumenti per affrontare l'emergenza è il fine del progetto Scuola di vite in autoscuola che parte da Trieste grazie a una convenzione firmata tra la provincia, la Confederazione delle Autoscuole e l'azienda sanitaria numero 1 triestina. Con soddisfazione che l'amministrazione provinciale ha aderito a questo progetto proposto da Confarca attraverso il quale verranno forniti e localizzati sul territorio 11 defibrillatori e verrà inoltre tramite l'azienda sanitaria fatti dei corsi formativi sia nella parte delle patenti sia anche in generale con un inserimento di formazione a livello scolastico. E sono proprio le autoscuole aderenti a Confarca ad aver sviluppato il progetto e a rappresentare il punto nevrancico per la sua attuazione. 11 autoscuole per adesso a Trieste verranno dotate di defibrillatore e quindi diventeranno punti cuore a disposizione della città e implementeranno la rete dei punti cuore a disposizione dei cittadini. Noi inseriremo questo nuovo modulo formativo sia nei corsi base per le patenti ma soprattutto per gli autisti professionali e per chi viene a fare il recupero punti. E viene da sé che la formazione degli istruttori dell'autoscuole verrà svolta da personale messo a disposizione dall'azienda sanitaria. La nostra parte è quella formativa perciò la formazione per le tecniche di rianimazione cardiopolmonare per l'uso corretto del defibrillatore semiautomatico. È un nostro preciso obiettivo diffondere queste conoscenze tra la popolazione perché un rapido intervento con un defibrillatore è determinante per la sopravvivenza della persona. Grazie.